Allontana Murro, poi Silvestre di testa, Tacxidesa, lancia in profondità, posizione regolare per Melchiorri, attenzione, Rafa, l'errore, Melchiorri Rete, l'errore di Viviano che regala il gol a Melchiorri, incredibile al Sant'Elia, incredibile. È successo di tutto in questi ultimi secondi, due errori incredibili, il primo in area del Cagliari, il secondo l'ho commesso Viviano, guardate qui, lancia posizione regolare per Melchiorri, esce Viviano, non trova il pallone in maniera goffa e poi per Melchiorri è davvero un gioco da ragazzi, trovare la porta completamente vuota, il gol del 2-1. Grazie.